Carla Bruni Carla Bruni, il sesso con mio marito Nicolas è fantastico . In una recente intervista concessa al sito americano Refineri 29, Carla Bruni ha dichiarato di avere ancora una perfetta intesa sessuale con il marito, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Un'unione su cui avrebbero scommesso in pochi. . Sono ancora molto attratta dal mio uomo e sono convinta che anche lui sia ancora attratto da me lo spero, dopo dieci anni. Queste le parole della cantante d'ex modella, che se la ride, a dispetto di tutti coloro che non immaginavano sarebbe durata tanto. . La coppia è sposata dal 2008 e ha una bambina di cinque anni, Giulia, che si unisce agli altri quattro figli che entrambi hanno avuto dai precedenti partner. . Continua la Bruni, in un matrimonio bisogna provare sia desiderio che amicizia per il proprio partner. . Quando vivevamo nello splendido Eliseo cercavo di cenare con lui ogni volta che l'agenda glielo permetteva. . Facciamo ancora del sesso fantastico. . Cerco sempre di mantenere un po' di mistero. . . Penso anche che bisogna essere molto attratti dalla persona che si sceglie. . Quando l'attrazione finisce il mistero scompare, è qui che cominci a voler tradire e mentire e allora è lì che è la fine. . Ma è necessario anche che tu abbia un atteggiamento molto confortevole, perché solo fuoco e passione portano alla distruzione. . Il consiglio di Carla Bruni è, quindi, quello di mantenere sempre una buona dose di mistero, per evitare che il partner si guardi altrove. . Ma poi aggiunge, sono una solitaria e, a volte, stare con il mio uomo è meglio che stare da soli, ma, talvolta, posso stare sola anche se sono seduta accanto a lui. . . Ma ho anche scelto la professione di cantautrice, per cui mi fa piacere stare da sola, in determinati momenti. . Le manca la vita da premier dame. . 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